Pronto? Sì, ciao carissimo! Come mi senti? Mi senti bene? No, ti sto parlando con il mio nuovo piccolo microtelefono. Una figata pazzesca. Sì, sì, oltre che piccolo, perché a volte le dimensioni, ragazzi, non contano. Sì, 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 tranquillo. Il mio... No, adesso ti racconto. Aspetta che parlo con i miei amici e gli spiego un attimino che gran figata è questo telefono. Sì, certo, va bene, va bene. L'importante è che mi senti bene. Buongiorno, ragazzi, BM70. Mi ha stupito, ragazzi, sì, mi ha stupito. Eccolo qui, in tutto il suo splendore. Una pulce di telefono, mini, un mignon, un mini babà, un qualcosa di eccezionale. BM70 è qualcosa di eccezionale, ragazzi. Sì, effettivamente è un telefono micro. Guardate quanto è piccolo. È eccezionale. Al suo interno troviamo... possiamo mettere la scheda, la nostra SIM, ha i tasti fisici. È veramente piccolo. Si ricarica con la micro USB, classica micro USB, quella di classici telefoni. La sua durata è eccezionale. Io ci chiamo tutto il giorno e ho messo dentro la seconda scheda per il lavoro. E funziona alla grande. Qual è la generata di questo telefono? Che oltre che è piccolissimo, veramente rischi di perderlo, perché è veramente qualcosa di eccezionale. È veramente... poi è bellissimo, è carinissimo. Vi faccio vedere quanto è piccolo. Ma la figata, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Così è un telefono piccolissimo. Lo vedete? Uno e due. Qua davanti ha la cassa dove sentite la voce della persona che chiamate, ma ce l'ha anche dietro. Perché? Perché questo? Lo vedete bene? Sì. Perché voi potete parlare direttamente così, con un dito. Lo tenete con un dito. Guardate, mi cade talmente che è piccolo. Lo tenete con un dito, no? È talmente piccolo, lo tieni così. E puoi parlare. Ma la grande figata di questo telefono è che con l'aggiunta di questo piccolissimo pezzo, componente che è già presente nel prezzo, a soli 30 euro, a soli 30 euro su Amazon, voi prendete il componente futuristico, prendete il telefono, andate dietro, tac, mezzo giro, sempre se riesco a infilarlo perché è piccolo. E voilà. Lui diventa, in un attimo diventa un auricolare, lo mettete sopra, quindi lo potete usare come auricolare. Guardate voi che figata. Guardate, non so se ha messo a fuoco perché non ci vedo, sì. Voi lo usate come auricolare e si sente da Dio perché ha una doppia esposizione di cassa, quindi potete sentirlo sia di qua che all'interno. Quindi voi vi mettete così, avete fatto il numero, lo mettete sull'orecchio e potete parlare col vostro microtelefono. Eccezionale. La batteria dura tantissimo, il display naturalmente è quello che è, ve lo faccio vedere, tac, sì, si vede. Vedete, si illuminano anche i tasti, cioè è spettacolo, anche i tasti si illuminano, è qualcosa di eccezionale. Vi faccio vedere dietro, diventa un auricolare, poi con un semplice click diventa un telefono, un mini telefono. L'unica pecca di questo telefono è che se non state attenti lo perdete. Ragazzi, io ve lo consiglio perché lo sto usando da cinque giorni, la batteria è impressionante, mi è comodissimo perché lo infilo dappertutto. Immaginate al mare, no? Al mare non avete marsupio, non avete niente, prendete, aprite il costume, tac, lo mettete dentro. E quando vibra è anche un piacere per alcuni. BM70, io ve lo straconsiglio se avete bisogno di un telefono mignon, piccolissimo. Fatemi sapere cosa non vi è piaciuto, fatemi sapere cosa volete sapere di più di questo telefono, qui sotto nei commenti. Condividete il video, ci vediamo alla prossima e iscrivetevi al canale. Ciao, beggi!